Angelo Di Stefano è un medico del servizio sanitario pubblico e da tempo contesta la gestione della sanità da parte della regione e continua a farlo evidenziando però di non essere dissidente nei confronti di comitati e associazioni. I problemi del settore, ha detto in conferenza stampa, sono aggravati dal commissariamento. I piani operativi secondo lui sono da stracciare e ne ha spiegato i motivi, carte alla mano. Io non vedo il problema pubblico privato, io vedo il problema di persone incapaci, incapaci, lo ripeto, incapaci di gestire questa sanità. Vorrei capire quali sono le professionalità che ha il commissario ad acta, il dottor Frattura, quali sono le professionalità che ha il dottor Di Martino che viene qui a passeggiare, quali sono i titoli che ha la dottoressa di Innocenzo che secondo me è vergognoso, ripeto, vergognoso che una persona che è stata condannata in primo grado dalla Corte dei Condi per comportamento grave nei confronti dell'erario, come può sedersi al Consiglio regionale o andare in giro con il Presidente a dire al popolo molisano voi dovete soffrire perché ve lo dico io che sono brava. La sanità è un diritto e non può essere distrutta, per fare i piani occorrono anche titoli morali, ha detto ancora. Se si leggono i piani ci stanno delle follie iniziali, faccio un esempio, se l'ospedale di Campobasso è un ospedale di primo livello non dovrebbe avere né neurochirurgia né chirurgia vascolare, dopo mi devono spiegare come fa a lavorare la neurochirurgia senza posti letto, quindi stiamo fuori dalla grazia di Dio, quindi chiederei gentilmente a queste persone di abbandonare il loro posto oppure se pensano che possono continuare a gestire la sanità in queste condizioni io mi rivolgerò per l'ennesima volta alla giustizia. Angelo Di Stefano infine ha sottolineato l'importanza di evitare la soppressione della Corte d'Appello. Anche la Corte d'Appello deve rimanere a Campobasso, deve rimanere nel Molise perché anche questa fa parte della sanità perché noi due cose dobbiamo tenere pulite in questa regione, la giustizia e la sanità, però la giustizia come noi deve fare il suo corso e deve dare delle risposte ai cittadini perché le accuse che stiamo facendo sono di una gravità inaudita.